Impostazione del monitoraggio della temperatura I dispositivi wireless di Eldes hanno sensori di temperatura wireless integrati. I sensori di temperatura cablati possono essere collegati direttamente alla ESIM384. Questa funzione ti consente di monitorare la temperatura fino a un massimo di 8 diverse posizioni. Vai su Periferiche, Altro, Sensori di temperatura e assegna il sensore di temperatura a un singolo slot. Puoi nominarlo e impostare il valore massimo e minimo. Se la temperatura scende al di sotto del valore minimo o se sale al di sopra del valore massimo, sarai avvisato tramite messaggio SMS o tramite una notifica sull'app. Il sistema può essere configurato per trasmettere questi eventi a qualsiasi vigilanza. L'automazione per il controllo delle apparecchiature elettriche può essere creata anche utilizzando vari scenari.